Un gruppo di scemi, non gli voglio offendere, diciamo dei deficienti, dal verbo latino deficere, cioè avere carenza di qualcosa. Un gruppo di deficienti nel 325 d.C. si riunisce a Nicea con il primo consiglio presente l'imperatore Costantino e rappresentanti di Dio in terra dicono aboliamo la reincarnazione che da ben tre secoli i cristiani sapevano e conoscevano perché Cristo l'ha insegnata, il Vangelo è imperniato tutto su karma e reincarnazione ma non perché Cristo ci credeva perché è una legge naturale. Ora la somma stupidità nostra dove sta? Accettare che un fatto scientifico e naturale di uno spirito che entra in un corpo e poi ne esce diventi un credo. Ma siamo scemi? La reincarnazione è un credo? Ma siamo impazziti? La reincarnazione è una legge scientifica? È argomento di scienza? Che c'entrano? I parrucconi lì che si riuniscono? No, è come se un gruppo di professori universitari del MIT, Massachusetts Institute of Technology, uno dei più grandi istituti scientifici mondiali, questi grandi eminenze della scienza si riuniscono e dichiarano non a tema la legge di gravità, al che vengo io, figlio di contadini saldi, ecco bene buttatevi dal quinto piano e vediamo se la legge l'avete abolita. Non si può abolire la legge naturale, quindi la reincarnazione non è un fatto religioso, è un fatto naturale, noi ci reincarniamo, punto. Infatti gli scienziati che si sono dedicati a questa ricerca l'hanno scoperto benissimo, perché è un fatto vero, non è un fatto religioso, quindi uno che ci creda o non ci creda non cambia.